cari amici benvenuti al nostro settimanale appuntamento lo sfondo lo tratteremo al termine della trasmissione come chicca finale questo bel pappagallo multicolore allora iniziamo con una notizia importante un avviso un avvertimento soprattutto ai cittadini di chiavari sta accadendo da qualche tempo un fenomeno che non era mai successo io parlo ormai dopo 20 anni di associazione difesa consumatori negozi che hanno creato problemi danni ce ne sono stati tanti ma quello che sta succedendo da qualche tempo con un negozio di telefonia nel centro di chiavari proprio parliamo addirittura di piazza mazzini non era mai successo noi abbiamo al nostro ufficio di consul la folla la coda di persone intortate che si lamentano che hanno avuto dei maltrattamenti sono andato per verificare anche in altri negozi della stessa compagnia telefonica anche questi sono esasperati dalle persone che dopo essere state così trattate male vanno da sempre dallo stesso gestore da qualche altro negozio a lamentarsi e questi possono soltanto allargare le braccia perché non possono intervenire ecco io non ho mai visto credetemi in vent'anni nostro avvocato ormai si occupa solo di vittime di questo negozio un trattamento come questo è veramente una cosa fuori dal mondo cioè qualunque persona ente qualunque cosa chieda gli viene risposto che esattamente il profilo le condizioni che lui vuole ce l'hanno sono per loro gli fanno firmare dei contratti sapete voi dice la gente dovrebbe leggere ma qualcuno ha mai visto un contratto di una compagnia di servizi telefonici ci sono quattro pagine scritte con il carattere 6 perciò ci vogliono due lenti non una ma due lenti per leggere e quindi quattro pagine scritte così questi che garantiscono che tutto quello che stanno dicendo corrisponde a quello che uno sta firmando e poi si trova a pagare quattro cinque sei volte di più servizi non richiesti insomma una strage quindi state attenti state attenti state attenti e soprattutto adesso allargo il discorso evitate il più possibile direi sempre che è la cosa migliore di accettare nel campo della telefonia offerte che prevedono il regalo dell'apparecchio telefonico soprattutto oggi come oggi dello smartphone lasciate perdere non vi regalano niente quell'apparecchio che vi consegnano in definitiva venite a pagarlo circa il doppio rispetto al prezzo che voi andate in un negozio di pura telefonia in un ipermercato da qualche altro rivenditore puramente di cellulari di telefono lo pagate 200 con queste offerte che vi regalano l'apparecchio alla fine lo pagate 400 inoltre evitate il più possibile anzi direi sempre evitate di fare acquisti che presuppongono poi il pagamento man mano mensile dei canoni degli abbonamenti tramite carte di credito non se ne esce più vivi da questi contratti nel momento in cui si è dato il libano si sono date le coordinate bancarie togliersi da questi pagamenti è difficilissimo si creano dei problemi con la banca la banca ha degli obblighi nel momento in cui voi firmate un mandato a pagare per 30 24 59 mesi un canone a qualche società non è così semplice andare in banca e dire non state più a pagare perché ve l'ho già detto ci sono delle formule particolari dove in realtà noi crediamo di pagare a rate ma in realtà diciamo alla banca tu questi 5 600 euro consideri li già di questa società non devono essere più toccati sono suoi e man mano glieli mandi mese per mese perciò bloccarlo addirittura ci vuole una denuncia bisogna andare dai carabinieri vedere dimostrare che c'è una truffa in corso e allora la banca può anche sospendere altrimenti ci mettiamo in situazioni complicatissime poi in qualche modo se ne esce sia tramite i nostri legali sia avvocati che conoscete voi ma che comunque o poco o tanto hanno dei costi e soprattutto il tempo che si perde il mal di fegato che viene perché ci si arrabbia perché si sa che ad esempio mettersi in contatto telefonico con queste società è pressoché impossibile si parla con operatori stranieri di call center che non hanno nessun potere che prendono nota che dopo un po' si litiga inevitabilmente perché la persona si agita scappa una parola questi rispondono si sbattono giù il telefono ecco ma perché andarsi a mettere in queste situazioni non lo so cercate di stare attenti 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 ricordatevi il proverbio chi lascia la strada vecchia per la nuova ecco non importa noi siamo allettati certe volte da delle offerte che sono 99,9 specchietti per le allodole ci regalano qualcosa non paghiamo più questo quest'altro ci regalano non è vero la sostanza è sempre che ogni cosa che fa una società è a suo favore mettetevelo in testa solo i francescani possono fare qualcosa di bene per gli altri le aziende fanno il bene delle proprie casse dei propri azionisti e perciò fregano fondamentalmente il cittadino i tempi di un rapporto onesto azienda consumatore sono tramontati nel vero senso della parola ci troviamo al 90 per cento davanti a tutte associazioni a delinquere travestite da compagnie telefoniche della luce del gas via dicendo allora cosa dobbiamo fare stiamo ai primi danni stiamo alla compagnia basica quella cosiddetta di maggior tutela quella che poi vende oppure vogliamo cambiare liberi di farlo sia ben chiaro ma stiamo attenti leggiamo tutto informiamoci voi andate in un negozio chiedete vi dicono esattamente questo bene allora mi stampa per piacere il contratto me ne da una copia me lo porto a casa prendo un microscopio passo due pomeriggio a leggerlo e poi se mai lo firmo fate così chi non chi vi dice non possiamo consegnare copia del contratto dice una falsità non ve lo vuole dare perché vi vuole imbrogliare io lo ripeto sto perdendo tra virgolette più già di otto minuti su questo argomento ma è grave c'è quasi un allarme sociale a chiaveri a causa di questo negozio che poi questa è la punta dell'iceberg veramente è qualcosa che va oltre la normalità di tutti gli anni di attività però state attenti seguite questi consigli mi raccomando adesso rimanendo nel campo degli intortamenti da anni che se ne parla di queste società che fanno incontri negli alberghi per le donne in sovrappeso e si offrono che cosa dei pacchetti di di fitness pacchi fitness qual è lo scopo il dimagrimento perché questo perché cosa c'è poi dietro c'è qualcosa è venuto qualche giorno fa una signora romena la solita badante ne abbiamo ormai a centinaia forse anche a migliaia nel nostro territorio di queste signore che non conoscono bene com'è il mondo in italia vanno portate da amiche ascoltano questi discorsi firmano questo ha firmato un pacco fitness per 299 euro anche lì l'operatrice le ha detto tu paghi 25 euro al mese non ti preoccupare non è più successo niente sono passati quasi due anni un anno e mezzo di colpo le arriva una lettera ci devi dare 299 euro perché non hai mai pagato e questa dice ma io non ho mai ricevuto un bollettino di conto corrente postale è andata di persona negli uffici ne hanno detto ma tu non dovevi pagare nessun bollettino dovevi pagare subito 299 euro che non hai mai pagato e questa non sa neanche in cambio di che cosa pacco fitness cosa vuol dire ci sono delle palestre no non c'è niente anche lì le signore soprattutto so che ascoltano molte persone anziane magari che hanno una badante mi rivolgo alla badante che accanto alla signora anziana che sta seguendo la trasmissione non cadete in questi truffe l'italia è la capitale mondiale delle truffe la nazione principessa delle truffe quindi qualunque cosa vi dicano non credete magari anche in romania si truffa ma non con la storia la tradizione il la potenza e la possenza che c'è in italia e soprattutto non firmate mai niente 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 state attenti e adesso un episodio volevo tenerlo come chicca ma c'è una cosa superiore a questo è venuto un giorno un signore mi ha raccontato io credevo che quasi scherzasse poi vedendo dei conteggi ci ho creduto c'è un amministrazione amministratore di condomini che fa pagare e ne ha un gruppo di palazzi perciò con svariate decine non so se saranno anche più di cento in totale condomini e lui amministra questo centinaio facciamo di condomini e amministra facendosi pagare naturalmente essendo amministratore suo diritto prendere dei soldi ma voi sapete che la legge che cosa prevede qual è la voce no del dell'amministratore condominiale la normativa prevede due possibilità una cifra fissa che viene stabilita annualmente dall'assemblea condominiale apposita in cui si rinnova oppure si cambia perché ogni anno bisogna decidere se tenere lo stesso amministratore e nel contempo si decide la cifra forfettaria si decidono 1000 euro 2000 euro al mese quello che è non importa si decide se la maggioranza sono tutti sono d'accordo questo amministratore prenderà x euro al mese quindi nell'elenco delle spese metterà la voce compenso amministratore esiste meno diffusa un'altra modalità di pagare l'amministratore la legge lo prevede ma almeno le nostre zone non l'ho quasi mai sentita ovvero sia si paga a servizio ovvero sia il tenere il compagamento del riscaldamento gestione del riscaldamento l'amministratore da 500 euro ipotesi il tenere corrente elettrica la luce rapporti con la e così via cioè eventuali lavori e via dicendo cioè si stabilisce un un pagamento per ogni servizio svolto dall'amministratore questo di solito magari accade dove c'è pochissime cose da fare quindi si stabilisce una cifra non so tutti ogni due mesi vai a pagare la bolletta della luce ai 5 10 euro per fare questa operazione ipotesi ecco questo amministratore invece a geniale perché bisogna riconoscere la genialità ha trovato un sistema per guadagnare il quadruppo il quintuplo rispetto a qualunque altro amministratore ovvero sia cosa fa lui prende la percentuale su ogni pagamento effettuato perciò bolletta del gas lui prende x per cento bolletta della luce x per cento qualunque tipo di lavoro x per cento prende una percentuale sulle spese e quindi ad esempio consuma tiene al massimo il riscaldamento cerca se possibile di superare anche le ore perché perché più è la spesa del gas più lui guadagna l'acqua lo stesso cioè è una cosa veramente insolita ecco io non so se è un caso unico o se qualcuno che mi ascolta dice è successo anche a me comunque sappiate esiste un amministratore che si fa pagare a percentuale su ogni pagamento effettuato bisogna riconoscere è un genio perché anziché non so 2000 3000 euro al mese lui ne guadagna 7 8 mila facendo due conti si arriva a questa percentuale adesso avete sentito il comune di chiavari ha deciso finalmente di intervenire con la massima severità senza pietà con multe che stroncheranno le finanze dei cittadini colpevoli per eliminare un comportamento che sta sconvolgendo la città voi mi dite finalmente è intervenuto per il transito delle biciclette come pazzi tra la gente sotto i portici no è intervenuto per stroncare il transito in moto motorette sui marciapiedi tra la gente contro mano no è intervenuto per stroncare ad esempio questi ragazzetti che il pomeriggio in piazza roma giocano a pallone in maniera violenta dando fastidio tirando pallonate in faccia ai neonati agli anziani facendo suscitare discussioni ferite contusioni l'altro giorno assistito era appena venuto il 25 aprile c'era anche lì la corona dei fiori di alloro per i caduti questi qui a calci contro il pallone contro questa corona l'hanno distrutta e naturalmente nessuno che interviene ecco il comune è intervenuto per evitare che questi ragazzi devastino rovinino danneggino gli arredi urbani e feriscano e disturbino comunque le persone in piazza roma no è intervenuto con la minaccia della scure perché i cartoni devono essere piegati bene quando si mettono nei contenitori appositi il chiaverese hanno scoperto non li piega i quattro volte li piega due volte quindi se uno cartone lo piega solo due volte occupa il doppio di spazio che se lo piega quattro quindi la mannaia dei vigili scatterà sulle dita fiscali dei chiaveresi che saranno scoperti a non piegare per quattro volte i cartoni anziché due mi sembra veramente un messaggio forte deciso di imporre la legalità in un territorio dove i cartoni venivano lasciati penso che tutti voi eravate sconvolti tanti lo so me l'hanno detto non dormivano la notte su questo fatto dei cartoni comunque adesso ci sarà il provvedimento quindi i cartoni saranno giusto poi moto biciclette pallonate in faccia alla gente che continuino pure il portante sono i cartoni un applauso al cartone e andiamo avanti rimaniamo a chiavere un mucchio di gente si protesta ha scritto è andata in comune ma quando cominciamo a pulire le spiagge che fanno schifo anche perché sapete quest'anno è anticipata anche per gli stabilimenti balneari la stagione può darsi che prima o dopo anche il comune provveda alla pulizia ma più tardi è peggio è il movimento già di pasqua dei turisti c'è stato dovevano trovare delle spiagge anche se c'è brutto tempo ma la gente ci passeggia lo stesso e non è la stessa cosa se un turista passeggia su una spiaggia ricoperta di sacchetti di schifezze di siringhe di oggetti abbandonati o se invece bella pulita quindi l'invito al comune è non solo giustamente primo posto i cartoni non dimentichiamoci ma ricordiamoci anche delle spiagge perché l'economia del turismo in qualche modo a chiaveri comunque tira ancora non è completamente distrutta difendiamo poi altra notizia a proposito di lavagna voi sapete che di sestri levante quindi il problema della trasmissione è molto mutilata questa trasmissione non potendo parlare di sestri il 50 per cento degli argomenti non si può dire è un peccato perché ce ne sono come sempre però elezioni in corso quindi no critiche grazie allora cosa succede invece a lavagna a lavagna c'è la storia dell'eudo bregante che questo bell'eudo è in secca da quando dal 2006 che è lì sono sette anni che è in secca l'amministrazione da sempre cosa ha affermato provvederemo a rimetterlo a posto a farne un gioiello e via dicendo bla 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 nel 2006 l'ha detto nel 2007 l'ha ripetuto l'ha ribadito nel 2008 nel 2009 nel 2010 poi negli ultimi tempi ha detto non abbiamo i soldi c'è la crisi dal 2008 sì ma tu ce l'hai dal 2006 la crisi è venuta dopo solite storie ecco adesso la grande trovata dato che un assessore è di arenzano ha detto ma si potrebbe portare ad arenzano lì c'è un un centro di formazione professionale identico a quello anzi più piccolo rispetto a quello del villaggio del ragazzo di san salvatore ad arenzano aggiustano c'è il laboratorio del legno più piccolo meno preparato di quello del villaggio di san salvatore quindi perché non portiamo l'eudo ad arenzano nel mio comune ad aggiustare anziché lasciarlo qui a marcire qualcuno ha detto ma perché magari non portarlo a san salvatore quello lasciamo stare il perché adesso che lo portino un po dove vogliono questo leudo ma non lasciamolo morire sto leudo come si chiama bregante perché sono gli ultimi esistenti sono dei capolavori sono dei gioielli sapete quello che addirittura è dovuto andare a casarza per metterlo a posto un signore per costruirsene uno perché a sestri neanche gli hanno dato la possibilità di farlo cioè non si capisce perché queste amministrazioni non hanno interesse nei confronti di questi oggetti che rappresentano la storia del territorio il leudo era l'elemento vitale per il commercio non solo per la pesca ma più ancora proprio per il trasporto per i vini all'isola d'elba per l'olio per altri prodotti era vitale le strade erano quelle che erano ferrovie non ce ne erano ancora parliamo in tempi antichi quindi salvare i leudi vuol dire salvare le radici della nostra storia prima che fosse costruita la fitte le industrie c'erano i leudi quindi prima salviamo la parte più antica poi mano a mano cerchiamo di salvare anche quella più moderna quindi conclusione si sta litigando dove portare sto benedetto leudo che lo portino dove voglio portarla da lenziano con il rischio che mentre lo portano finisce tutto a pezzi perché ormai è mezzo marcio possono portare al via lo portino ma lo aggiustino perché non va bene allora prima della chicca finale qualcuno dice ma è inevitabile sì è vero che è inevitabile mi riferisco proprio in questi giorni a rapallo i lavori dal casello dall'uscita del casello dell'autostrada e a lavagna la riasfaltatura della strada dalla stazione di lavagna alla stazione di cavi ecco in entrambe le situazioni caos code situazioni pericolose a rapallo hanno messo delle reti che tolgono visibilità a rischio di incidenti a lavagna questo semaforo che due dei tempi geologici quindi code quindi 40 minuti da sestri levante a lavagna causa la coda causa i semafori vecchi discorsi ma perché non si lavora la notte cioè cosa succede se lì non abita praticamente anche nessuno non ci sono problemi di lavoro ad asfaltare non si fanno dei lavori di perforazione fozzi costa di più ma si evita il caos poi si è scelto proprio il periodo ancora delle scuole se si faceva da lunedì 17 giugno quando le scuole erano chiuse ad esempio e gran parte del traffico è legato alle scuole si poteva forse fare meglio che il turismo intanto non è ancora esploso solite critiche le amministrazioni dicono ecco non facciamo niente vi lamentate quando facciamo qualcosa non va mai bene hanno ragione anche loro siamo d'accordo però mi sembra che sempre questi lavori siano fatti è giusto farli ma senza al quantitativo di buon senso che necessario che avrebbero bisogno per farli nel modo migliore primo per creare il minor danno possibile perché se non si ha in testa questo principio se se ne frega della gente è logico che poi si fa quello che si vuole bisognerebbe partire da lì io devo fare i lavori bene primo come faccio a creare il minor disturbo possibile e di lì procedo invece il disturbo non viene neanche preso in considerazione lo scaricare sugli altri il danno inevitabile di questi lavori e per concludere avete seguito ecco il pappagallo la notizia un signore va in ospedale al suo pappagallo gli dice al vicino di casa me lo tieni mi raccomando sono affezionato è molto vecchio io non posso portarmelo all'ospedale anche se le nuove leggi sapete dicono che probabilmente tra un po ci si possono portare gli animali anche in ospedale la legge non c'è ancora quindi l'ha lasciato al vicino questo qui è stato operato ha fatto quello che doveva fare torna a casa cosa si scopre che questo signore al quale aveva affidato il pappagallo l'ha fatto morire o l'ha fatto o comunque il pappagallo è morto è morto di cosa è morto di vecchiaia è morto di un infarto è morto perché non aveva più voglia di vivere è morto perché è stato trascurato dalla persona che l'aveva ricevuto in consegna non si sa ma sta di fatto che l'autopsia non si è potuta fare del pappagallo per stabilire le cause di morte allora questo signore il proprietario dell'uccello morto ha denunciato il signore che si era preso in carico questo animale conclusione processo di primo grado condanna quattro anni e mezzo quattro anni e mezzo questo signore perché aveva lasciato morire perché più che altro era morto il pappagallo lasciato dal vicino quattro anni e mezzo adesso in secondo grado è stato assolto e ci mancava ancora che non assolvesero una persona per la morte di un pappagallo ma non è lì il problema è l'entità della condanna stiamo parlando di quattro anni e mezzo di prigione perché ti ho lasciato un pappagallo di cento anni e questo è morto quattro anni e mezzo allora cosa è meglio lanciarsi ubriachi e drogati con la macchina sulle fermate degli autops ammazzare cinque sei persone perché intanto non me li daranno mai quattro anni e mezzo è impossibile la legge rischio due anni che naturalmente non devo fare è possibile un sistema giudiziario dove la morte perché ho affidato un pappagallo prendo quattro anni e mezzo di carcere ammazzo sei persone alla fermata dell'autobus prendo due anni e mezzo con tutto il rispetto per i pappagali e per gli uccelli ma mi sembra che non sia proporzionale il rapporto due anni e mezzo quattro anni e mezzo sei persone uccise un pappagallo morto il il doppio circa della pena non ci siamo non ci siamo ma il famoso reato di omicidio stradale ve lo ricordate che uno tra i primi fu anche renzi a sollevarlo ma non è che adesso perché renzi è un po in ombra non se ne parla più questo nuovo governo oltre naturalmente a a tutti i problemi che deve fare ma perché non riesuma non tira fuori di nuovo questo provvedimento queste sono le cose l'omicidio stradale tu ammazzi qualcuno devi prenderti vent'anni di galera non sei mesi per omicidio colposo a parte che se anche in italia ci fosse quello che un tempo si usava in certi stati degli stati uniti avremmo risolto tanti problemi qual era quel bel principio che alla terza condanna la prima potevi avere due tre cinque anni la seconda lo stesso alla terza ti davano l'ergastolo di ufficio un po eccessivo forse però quando si applicavano queste formule la delinquenza era diminuita ci sono le tabelle periodo di applicazione di questa legge periodo dell'intensità della criminalità se anche noi avessimo questo principio che alla terza condanna prendi l'ergastolo forse meno gente morirebbe uccisa da pazzi sulla macchina drogati e alcolizzati amici io il pappagallo vi salutiamo ci vediamo la prossima settimana e come sempre occhio arrivederci loreto